Ciao amici di Teoria Top Games, il DLC 3.0 di PES 2021 ha sistemato le divise delle squadre di Serie A e Serie B allora scopriamoli insieme, verrà un po' lungo come filmato perché ogni volta devo andare a cercare la maglia però visto che in tanti chiedete queste informazioni andiamo a vedere se ci sono stati cambiamenti io ringrazio Rudy Salerno e Davide Deida per una lista della situazione prima del DLC 3.0 andiamo un po' a vedere com'è la situazione allora l'Atalanta aveva la maglia del 2020 e 2021 ma senza sponsor vediamo com'è la situazione adesso, bene, mi sembra che sia tutto ok, ci sono tutti gli sponsor e quindi l'Atalanta è sistemata il Benevento aveva la divisa 19-20 e senza sponsor andiamo a vedere un po', prima divisa giocatori in campo eccola, mi sembra anche qui gli sponsor ci sono onestamente non so riconoscere se sia quella di quest'anno ma ad occhio mi sembra di sì eppure questa quindi è sistemata anche il Bologna era con la divisa giusta ma senza sponsor vediamo se adesso è sistemata mi sembra di sì, anche qui gli sponsor ci sono, facile ristrutturare il Cagliari idem, senza sponsor adesso andiamo un po' a vedere e qui io vedo tutto Isola, Artigianato di Sardegna Icnusa, la famosa birra sarda e quindi mi sembra tutto ok Crotone, Crotone senza sponsor vediamo se adesso gli sponsor ci sono sì, sì, mi sembra ok anche il Crotone la Fiorentina era ok il Genova pure, il Verona pure la Juve ok la Lazio, questo lo possiamo vedere facile aveva per errore ancora la coccarda e la Coppa Italia è stata tolta? vediamo no niente, non vogliono togliere la coccarda e la Lazio è ancora lì eh, però no però questa non va bene perché solo il Napoli può avere quest'anno la coccarda e la Coppa Italia va bene e niente rimane questo bug incredibile ma non si capisce allora il Parma mancava è lo sponsor è lo sponsor Old Wild West vediamo adesso c'è adesso c'è adesso c'è quindi ok poi la Roma era ok è lo sponsor ok eh cioè la Sampdoria c'è uno sponsor in più vabbè lasciamo perdere Sassuolo ok lo Spezia lo Spezia non aveva gli sponsor vediamo 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 gli sponsor ci sono ora sullo Spezia il Torino era ok l'Udinese sembra che mancasse uno sponsor vediamo 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 primo giocatore boh non lo so onestamente non riesco a vedere però mi sembra che ci siano tutti gli sponsor sì 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 mi sembra proprio che ci siano tutti quindi quindi la Serie A è tutto ok tranne la Lazio che non vuole non gli vogliono proprio togliere la coccarda della Coppa Italia allora andiamo a vedere la Serie B scusate devo trovare la lista allora Lascoli era ok il Brescia niente vabbè tanto non ha la licenza ufficiale il Chievo tifosi del Chievo diteci voi se questa è la maglia di quest'anno a me sembra di sì sembra quella nuova quindi il Chievo ok il Cittadella non era ok non aveva i sponsor dell'anno scorso vediamo mi sembra tutto ok anche il Cittadella poi il Cosenza il Cosenza era il Cosenza era mai a 19-20 senza sponsor vediamo qui qui non so se è senza sponsor anche quest'anno tifosi del Cosenza aiutatemi voi perché non so dirvelo la Cremonese la Cremonese era senza sponsor vediamo se adesso l'hanno sistemata mi sa di no mi sa che anche qui vedo ancora senza sponsor quindi sulla serie B c'è qualche mancanza in più l'Empoli pure era senza sponsor vediamo vediamo se no l'Empoli mi sembra che adesso è tutto ok ne vedo parecchi di sponsor e poi il Frosinone era anche senza sponsor vediamo mi pare tutto ok Banca Popolare Frosinate quindi è ok il Lecce il Lecce era senza sponsor e la vecchia maglietta Lecce non lo so se questa è la nuova anche se mi sembra di sì seppur sia senza sponsor aiutatemi ragazzi a tifosi leccesi ognuno di voi mi aiuti anche la Nerosi Vicenza era senza sponsor vediamo se sì adesso c'è lo sponsor mi sembra tutto ok la Nerosi Vicenza Monza era già ok Pescara Pescara era ok la prima maia la seconda no ma non lo riconosco il Pisa era vecchia e senza sponsor mi sembra che adesso sia tutto ok Pordenone Pordenone era senza sponsor invece vediamo adesso ci sono tantissimi sponsor sul Pordenone Reggiana Reggiana vediamo era senza sponsor adesso mi sembra che sia tutto ok con tutti gli sponsor del caso io non riconosco se siano quelle di quest'anno dell'anno scorso voi tifosi di ogni squadra commentate così ci fate sapere se è tutto ok o meno la Reggiana è maia 20-21 ma senza sponsor e ancora non si vedono la Salernitana era la maglia l'anno scorso vi mostro quella nuova non lo so onestamente se sia quella nuova o meno anche se vedo tutti questi fumi non so se ci fosse stata già l'anno scorso lo SPAL lo SPAL era senza sponsor vediamo se adesso è ok qualche sponsor lo vedo anche così non vedo uno principale davanti e questo amici di Ferrara fatemi sapere se è corretta ora o meno Venezia era prima maglia ok seconda maglia era quella vecchia e questo io non lo so riconoscere questa è quella nuova e questa è la seconda maglia però mi sembra che corrisponda vedendo un po' lo stesso sponsor e infine infine il Virtus Central la prima maglia era quella vecchia la seconda era ok vediamo un po' se adesso questa è la prima e questa è la seconda mi sembra ok dunque 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 la situazione ricapitolando mi sembra serie A tutto ok tranne il clamoroso errore sulla maglia della Lazio con ancora la coccarda della Coppa Italia incredibile 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 serie B qualche cosa ancora non va è stato sistemato però un buon 80-90% e quindi diciamo che molto è stato fatto si può fare ancora di più Konami togli la coccarda la Lazio per favore vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo filmato ciao